Expo 2015, uno sguardo sul cantiere. Ad offrirlo sarà un drone che, una volta alla settimana, effettuerà mezz'ora di riprese sul cantiere. Il filmato sarà poi messo a disposizione all'interno dell'Expo Gate, in Piazza Carole a Milano, e sul profilo Facebook dell'esposizione. Il progetto, intitolato a Belvedere in città, realizzato da Expo in collaborazione con Telecom Italia, consentirà così di seguire l'avanzamento dei lavori di costruzione del sito fino all'inaugurazione dell'esposizione universale. Tra gli obiettivi dell'iniziativa, quello di porre un altro tassello nel mosaico della trasparenza per raccontare l'interno progetto Expo 2015, e anche quello di una importante sperimentazione tecnologica, e non solo. Andrea Costa, responsabile per Telecom Italia del progetto Expo 2015. Il progetto Belvedere in città è un progetto con un grandissimo impatto di comunicazione ed impatta sul discorso che assieme a Expo stiamo facendo sulla trasparenza, quindi la cosiddetta Open Expo. Però nel caso specifico le tecnologie utilizzate hanno anche un significato per Telecom Italia di contributo alla Smart City, quindi la città intelligente. Le immagini saranno girate in 4K e la trasmissione a terra dei filmati avverrà con l'impiego della tecnologia mobile 4G di Team. Le riprese saranno effettuate durante l'ora di pausa del cantiere e con i macchinari più grandi fermi, così da poter operare in piena sicurezza. Il drone è realizzato da Skyrobotic.